Amici di Gazette del Sud, ultime ore prima del Natale, antivigilia a Reggio Calabria, soccorso Garibaldi, tantissima gente che si appresta a fare gli ultimi regali prima del Cenone, prima del giorno di Natale. E allora siamo qui per andare a vedere un po' l'atmosfera che si respira, venite con noi, seguiteci così andremo a capire le sensazioni dei reggini dell'ultima ora, l'ultima corsa ai regali e poi sentiremo anche un esponente del consiglio metropolitano qui di Reggio Calabria che ci descriverà un po' la situazione a livello commerciale, culturale che aria si respira anche negli ultimi giorni qui a Reggio prima del Natale. Il clima è un clima positivo e anche la temperatura, però bisogna stare attenti perché insomma c'è sempre questo pericolo del Covid e quindi c'è sempre da stare in guardia. I regali già fatti e abbiamo finito? Abbiamo fatto tutto da dieci giorni. La signora dice di no, manca qualcosa. Sì, abbiamo fatto tutto. Abbiamo fatto tutto. Abbiamo concluso. È vero, è vero. Abbiamo fatto regali? Guardi, noi non possiamo dare una mano. Poco, pochi, pochi. Pochi, come mai? Sono pensierini proprio. Motivo? Motivo perché c'è crisi. Com'è il Reggio addobbata? Bellissima, bellissima. Regali fatti, sì sì, anzi ancora non completamente. Cosa manca? Manca, ne mancano tre. Chi manca? Chi manca? Vabbè, ancora alcuni amici, amiche. Famiglia, figli, marito, contentato. Questo sondaggio. Siamo in giro per fare un po', per raccontare un po' le ultime ore del Natale al Reggio. Sì, bello, sì, diciamo si avverte anche il Natale ed è anche bello che ci sia questa specie di rinascita anche se purtroppo il problema non è ancora diminuito però lo avvertiamo il Natale e anche questo è lo shopping. Le piace questo Reggio quindi addobbata con le luci? Mi piace sempre Reggio, in qualunque modo e mi piace anche perché è giusto per chi deve ricominciare, per i commercianti, per tutto. Quindi dobbiamo dare una mano, anche noi, anche noi cittadini. Da dove arrivi? Da Bergamo. Che ci fai qua a Reggio da Bergamo? Ho i parenti qua in Calabria. Quindi sei venuta anche quest'anno a Natale? Sì, esatto. Il regalo che hai fatto o che dovrai fare ancora? No, li ho fatti tutti, se non sbaglio, li ho fatti tutti. Capodanno lo passi anche qui? No, Capodanno torno a Bergamo. Allora, come sta andando? Le ultime ore prima del Natale qua a Reggio? No, insomma, c'è movimento, vediamo che la gente c'è lo stesso, anche se il Covid... Ah, poi non ci lamentiamo, lavoriamo, qualcosina... Rispetto agli altri anni? No, peggio, peggio, peggio. Per me, per la mia categoria peggio, poi non lo so gli altri negozi. Allora, ci manda gli auguri di Natale, i suoi auguri di Natale a Cazzazza del Sud? Certo, tanti auguri a tutti noi, che sia un buon Natale, una buona fine, un buon principio, speriamo che le cose cambino. Noi siamo il SADMAT, Entenoprofit, che da 1994 offre assistenza domiciliare ai malati oncologici nella provincia di Reggio Calabria. Ci trovate oggi, l'ultimo giorno, 23 dicembre giovedì, e faremo anche un evento alle 19.30, faremo volare le Fly Lantern per l'hashtag non spegnere la speranza. Questi sono i lavori fatti dai volontari del servizio civile. Tutto il ricavato sarà devoluto ai malati oncologici della provincia di Reggio Calabria. Seguiteci. Come stanno andando i regali? I regali discretamente. Abbiamo finito? Sì, sì, abbiamo finito. Quest'anno abbiamo fatto qualcosina in più rispetto all'anno scorso. Speriamo che questo Covid va via. È un altro anno di poter fare ancora di più. Domani c'è nonne, spesa fatta. Sì, 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 domani c'è nonne in famiglia e via così. Buon Natale. E buon Natale anche a voi. Questa è la situazione, vedete, c'è la gente in fila per andare a compiere gli ultimi regali anche qui a Reggio Calabria. Vedete, questa è un po' la fila per entrare in questo negozio di bigiotteria, gioielleria qui a Reggio Calabria. Le signore, vediamo da quanto sono in attesa le signore per entrare a fare il regalo. Siamo di Cazzazzo del Sud. Da quanto state aspettando? Molto poco, dieci minuti. Ultima corsa per i regali. E non abbiamo intenzione di aspettare altri dieci minuti, solo dieci in più e basta. Arrivati a 20.01 andrà via. Vogliamo, vogliamo. Gli altri regali già fatti? Ma un Natale molto semplice, non ci interessano i grandi regali. La spesa per il Cenone l'ha fatta? Quella sì, perché dobbiamo mangiare. Per il resto aspettiamo semplicemente di stare bene e di poterli fare in famiglia. Reggio come la sta vedendo? Ma non la sto vedendo, perché ho lavorato fino ad oggi, quindi praticamente... Si sta ulteriormente stressando qua in fila. Esatto, non vorrei essere qui, ma proprio qualcosa che devo fare di assolutamente necessario, altrimenti non sarei in giro. Soliti regali che si fanno a Natale, più o meno, insomma. Abbiamo finito? O c'è qualcos'altro che manca ancora? Ancora mancano, ma è anche bello farlo in questa atmosfera di luci, di colori e di... Piace questa reggia? Certo, assolutamente sì. Per la tavola è già tutto pronto? No, io sono una dell'ultimo minuto, quindi... Deve fare ancora la spesa, domani mattina andrà fatto... Esatto, perfetto. Hai in mente cosa comprare o arriverà anche lì all'ultimo? No, no, ho in mente, almeno questo sì, dai. Grazie, tanti auguri, buon Natale. Grazie, tanti auguri a tutti. Un reggio che finalmente ritorna a vivere, questo lo dobbiamo dire, perché dopo il periodo che abbiamo vissuto e che purtroppo stiamo vivendo, e stiamo cercando di risollevarci per come possiamo. Un reggio che torna a vivere dal punto di vista commerciale, ma anche e soprattutto dal punto di vista culturale e spettacolare. Dal punto di vista commerciale, perché tutti noi cittadini e cittadine, chiaramente in questo periodo siamo più propensi a fare acquisti e compere per i nostri cari, per i regali dei nostri cari, allo stesso tempo le attività commerciali hanno la possibilità di rinascere in questo periodo, quindi di introitare economicamente i risparmi dei nostri concittadini. Questo è bello perché abbiamo sempre sostenuto che dobbiamo spendere nei negozi della nostra città, dobbiamo fare compere nei negozi della nostra città per aiutarli. Stessa valutazione abbiamo fatto con gli artisti del nostro territorio metropolitano, perché abbiamo realizzato quest'anno più di 100 attività di spettacolo, più di 100 eventi di spettacolo in tutta l'area metropolitana, nei comuni che chiaramente ne hanno fatto richiesta, e abbiamo valorizzato prevalentemente i nostri artisti locali. Sono molto soddisfatto di questo, i nostri artisti sono molto soddisfatti, la città metropolitana ha compiuto uno sforzo importante e i risultati si sono visti, per cui in giro per i comuni c'è una pulsione musicale, una pulsione artistica che finalmente è venuta fuori, è emersa e questo per noi è un grande motivo di orgoglio. Continuiamo a stare vicini, continuiamo a stare tutti legati. Messaggio d'agurio ai reggini. Allora auguri alla mia città, auguri ai cittadini e alle cittadine, che sia veramente un Natale in cui ognuno di noi possa, come dire, toccare la propria coscienza e cercare di capire anche che dobbiamo comprendere, comprendere tutti, comprendere le istituzioni, comprendere le persone che stanno male e aiutarci, soprattutto aiutarci e criticarci nel modo giusto, senza offese e senza parole che possano, come dire, toccare la dignità delle persone, perché purtroppo questo avviene. Per cui l'invito che vi faccio è di essere certamente critici, avere uno spirito critico, ma sempre nella correttezza nei confronti del prossimo. Grazie a tutti.